Questo video riguarda i migliori tre culla per neonati. Il vincitore della qualità è il Kiko Next 2 May Dream Evo. La culla fianco letto Kiko che offre ai genitori la praticità di materasso è traspirante e rigido per offrire il giusto supporto al bebè, come consigliato dai neonatologi. La culla Kiko Next 2 May Dream Evo è dotata di una barriera che scorre su e giù che consente di aprirla e chiuderla con facilità, anche quando è fissata a letto. Il tessuto di Kiko Next 2 May Dream Evo è realizzato per il 65% con poliestere riciclato, per un rispetto dell'ambiente. Grazie alle cinghie incluse nella confezione, la culla si può fissare al letto dei genitori, le quattro ruote girevoli permettono di spostarla con agilità in diverse stanze. L'altezza della culla è regolabile, esistono 11 livelli di altezza e i piedini si ritraggono automaticamente quando vengono spinti contro la struttura del letto. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Maxico C-Swift. Swift è sia culla, sia lettino, sia box giochi indicato dalla nascita fino a 3,5 anni, progettato e costruito per adattarsi alla routine quotidiana di ogni famiglia. Il materassino è regolabile su due livelli trasformando Swift in una culla per neonati e in un comodo lettino da viaggio e box giochi per bimbi piccoli. Il materasso lettino è componibile e si divide in due parti per adattarsi al livello culla, poi tramite zip si ricompone per adattarsi al livello lettino box. Con soli 7 KG e con le sue dimensioni compatte Swift è il lettino da viaggio multiuso più leggero ed è inoltre facile da portare con te durante i viaggi e le vacanze grazie alla comoda borsa per il trasporto inclusa. Swift si chiude in due secondi rendendolo il lettino da viaggio pieghevole più veloce. Il vincitore del premio è il Costway Culla da viaggio. Questo culla neonato accompagna la crescita del bambino. Il fasciatoio incluso permette alla mamma di cambiare facilmente il pannolino del bambino e la culla fornisce un posto sicuro per far riposare il bambino. Dopo aver rimosso la culla, il bambino avrà tanto spazio per imparare a stare in piedi e camminare. Il carillon ha una musica piacevole che calma il bambino facendolo smettere di piangere e aiutandolo ad addormentarsi. Ci sono due ruote universali con freno per spostare facilmente il box. Il design a rete offre una migliore visibilità per osservare il bambino. Il fasciatoio, la mensola e la culla si smontano facilmente dal box. Il letto si piega velocemente senza attrezzi e la borsa ti aiuta a riporre la culla piegata, molto comoda per far dormire il bambino quando vai a trovare i parenti o viaggi. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.